il bichettello sono partiti i protagonisti a finale dica con gli allievi Fendoni, Livio Paolo Martinello, Metturo, Stella, Gianella, Cinico e Del Papa quindi, contavolenti, fantastiche della finale, Sistono Mundo avranno altri modi per i stottassi fuori qui, fuori il crasso, mentre al comando con numero 96 Fendoni all'interno per la seconda curva, lo passa e la seconda curva, lo ha già pensato? è un passo così per le mani che sono pensato è l'orenzo, Stella quindi Fendoni Marcinello e Stella questo è il secondo e il terzo